Eccoci bentornati su Go Games, siamo su Zelda Tears of the Kingdom e in questo video andremo a sbloccare un sacrario segreto, nascosto più che segreto. Ci troviamo esattamente in questo punto qui, siamo vicino al villaggio Calbarico, torre della Kina Sarasra, questi nomi impronunciabili, e in questa zona qui, vi zoom esattamente in questo punto, ci sarà questo Golem che ci darà una secondaria. Che è successo? Sei spaventato, sei spaventato. Fantastico. Yes. Tingilo di nero. Allora, vediamo se riusciamo subito a inserire ciò che dobbiamo inserire. Possiamo già farlo in realtà, sì. Dai, non ti spaventare, ma fiffone. Così, aspetta, va. Inseriamo questo qui dentro, cioè faccio trovare il buco, trovo complicato. Ok. E poi, ovviamente ci vuole il sole, eh, io intanto... Ah, però non si muove, senza... Ma si muove? Sì, sì, si muove lo stesso. Intanto lo metto più o meno in posizione, quindi giriamo. Questa... Ha un po' la gigante. Ok, no. Fa così. Più o meno così, ma adesso ci arriviamo. Poi qui ci accendiamo il fuoco e ci spostiamo alla mattina, così, fino al mattino. Ce l'ha suggerito, ne approfittiamo. E approfittate neanche voi per lasciare un like e iscrivervi al canale, ovviamente, come al solito. Per modo, ma aspetta che c'è il sole, però. Sta buono. Pure nuvoloso, eh. Guardalo lì, il drago, che feco. Va bene. Dormiamo un'altra volta. Tempo malefico. Ok, il sole si sta spostando. E ovviamente anche l'ombra. Perfetto. In questo modo qui. E ovviamente anche l'ombra. Perfetto. Sì, sì, sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.